www.marizopoli.it Pensami! Pensami? No, pensami è l'Inps che pensa a noi con questo simulatore, simulatore di scenari pensionistici dove vi riporto il link per chi volesse entrare e provare a simulare e con la notizia di questi giorni che dice che l'Inps ha aggiornato il simulatore e che i trentenni potranno lasciare il lavoro a 70 anni. A 74 chi non è riuscito ad avversare 20 anni di contributi. La notizia è abbastanza interessante per la riflessione, quindi vi lascio il link per provare, per vedere, per pensami, la pensione su misura, ma la pensione dobbiamo, il futuro più che la pensione, dobbiamo pensarci oggi per il mio domani, quindi devo pensare al durante me, adesso, non domani, non pensami, pensa a me oggi, questo è il suggerimento di Maurizio Poli. Alla prossima!